No, terminato l'incontro, vittoria, questo secondo tempo 2 a 0. Una doppietta di Leonardo, mentre nel primo tempo ha segnato Emanuele Capuano. Il secondo tempo è terminato 0 a 0. Ecco, c'è il fair play, il fair play adesso. A suon delle campane. Anche la vicina chiesa. Ok. E' una foto tutti insieme? E' una foto tutti insieme. schieratevi belli